Siamo a ricordare un grande intellettuale, un grande scrittore, un grande uomo politico che ha saputo anche offrirci una visione della città assolutamente nuova rispetto a quelli che erano gli stereotipi presenti in quel momento e grazie alla sua coscienza critica ci ha dato uno sprone per andare avanti, per continuare in questo percorso che lui insieme a tanti altri intellettuali, uomini di cultura, artisti, ci ha saputo donare in questi bellissimi anni della sua presenza qui. Sciascia ci ha lasciato un grande messaggio che in un momento in cui appariva che tutto era perduto ci ha saputo dare un grandissimo messaggio che con la cultura possiamo immaginare percorsi di rigenerazione, possiamo immaginare una vera ed autentica rinascita.